Aldo, Aldo, 3 dicembre 2021, guardare qui, guardare la Brina, è un tappeto bianco, sembra della neve, infatti sono sceso dal treno, qui non esiste la linea gialla, ma sono sceso in un tappeto bianco di Brina, di Brina, eppure era un tappeto verde in primavera, adesso è un altro colore, ha cambiato, e poi vorrei scrivere su questo bel tronco il mio nome, Aldo, scritto sulla Brina il mio nome e la data di oggi, per dire che sono la stazione di Brenna Alzate, di Brenna Alzate, bellissima, più la guardo, più mi fa piacere di rivivere un passato, dove qui ha veramente vissuto il passato, la stazione del Novecento, alberi secchi, che ogni primavera, al passare dell'anno, girmogliano e danno vita ad un'altra vita, a una vita che continua, anni, anni, dopo anni, siamo arrivati nel 2021, questa stazione a binario unico, come ben vedete, funziona ancora, dopo anni e anni, passato quasi un secolo, ebbene qui si gira un film, ma Aldo veramente non vuole copiare quello stato d'animo angoscioso di quel film che hanno girato per una partita di Dama. Io riprovo la mia vita qui, in sembianze positive, dove il vivere sale, sale come quegli alberi là di fronte, che sembrano animi viventi, dannate in una divina commedia, sembrano braccia alzate verso il cielo, quegli alberi, come per implorare un senso di divino che l'anima dannata può salvarsi. Aldo ha dentro di sé un letto vivere, non ha dell'angoscia di un'anima dannata, ma è consapevole dell'esistere della sua vita, l'esistenza di un binario solo, dove la percorribilità di un treno mi porta da un capo all'altro capo, come se che mento la mia vita è da proseguire, il principio e la fine, come la partenza di un treno, è la fine dell'arrivo del luogo destinato, ebbene, ebbene la mia vita non finirà poi nelle anime dannate, penso che mi ha lieto vivere, il mio voler bene a questi miei youtuber, ascoltatori di youtuber, mi portino poi, se poi è vero, in un paradiso dove esiste il piacere delle altre persone, volersi bene, ciò che questo tormento, si può chiamarlo, non è esistito su questa vita terrena, ma io ci proverò, ci proverò a fondare il mio io, a stabilire che sono la stazione di ben alzare, a raccontare la mia vita in questo linguaggio bianco, in questo foglio bianco che c'è per terra io scrivo, io scrivo la trama di un mio film, per terra, sopra una brina, poi verrà il caldo, verrà un soffio di vento e le mie parole se ne vanno, ma rimane l'armonia stessa che io sono stato consapevole di esistere, di aver scritto una mia storia dove il mio io viene ribaltato continuamente nella società odierna, ma rimane uno scritto di testimonianza scritta su un foglio bianco dove la matita, o chiamalo come vuoi adesso, youtube moderno, rimane la consapevolezza che il vivere in una stazione appaga in me stesso l'individuo a vivere, a continuare a essere se stesso, a tramandare al mondo le sue esperienze, in quanto il via vai di un treno è portatrice di persone che vanno da un luogo all'altro, un luogo comunicativo per conoscere altre persone. Caronte portava da una sponda all'altra le anime dannate, io porto da una fermata all'altra il mio stato d'animo che si rivela in una reversibilità ottimista su alcune persone che ho conosciuto in treno. Ebbene, vi saluto da questa stazione ferroviaria di Brenna Alzate, dove la vecchia stazione della ferrovia dello stato di Brenna Alzate conserva ancora molti elementi tipici del primo novecento. Per questo che girano film, amano questa stazione, perché il vivere non è il vivere un giorno, ma il vivere è il pensare, il passato è il presente, collegare le due fasi dimostrative dell'esistere in un altro mondo dove il racconto fa rivivere la storia. Aldo.